Tratto dal racconto quando arrivano gli angeli di San Miguel. Il cellulare si accende, un sms anonimo. Ti attaccherei al muro, lo so io che ti farei. Perdi un battito, sai, e poi anche il secondo. Guardi tra tutti quei volti nuovi, e poi un mantice nel petto. La testa corre, le gambe no. L'emancipazione scende la scala delle priorità. Resta quella frase, ti attaccherei al muro, lo so io che ti farei. Uno scherzo del destino dopo anni passati a schivare carezze non richieste. Mani sul sedere, ammiccamenti e porcate varie. Ora che il gioco era salito a un altro livello, torni in quella cantina. La puzza di muffa, le ombre. Nelle mani un pezzo di carne che fai fatica ad identificare. Maledizione. Tu, uomo piccolo e raccapricciante, sai cosa significa dover ricominciare da capo dopo aver smascherato un fantasma che promette di venire a cercarti fino a casa? Vomitare le tue promesse di azioni inanerrabili, con i pezzi di un passato allontanato a fatica, se è stato il freddo, il vuoto, il silenzio e il dolore. Uno spavento senza fine.